via 64, termini, stazione San Pietro ecco, questo è il benvenuto con la lettera la città non vuol dire che non si vede nulla ecco, non vuol dire che la città è la città è il 34 però non passa più, fa dritto, ecco prossima fermata, cavallice di San Pietro si vede la città prossima fermata, cavallice di San Pietro e guarda che bello, 34 San Pietro, eccolo, e lui tiene il sito e la due diciassessima allimpiade, eccola oh, ancora, non dobbiamo ripararlo guarda che bello questa vettura possiamo anche fare un ritorno, perché mi piace molto fare un ritorno così entra in un cerchio si vuole è tutto uno Paola, sono tutti interessi, extraterrestri, non si sente il suono non suoniamo perché vogliamo restare un attimo, quindi è la prossima fermata oh, si abbassa la luce di nuovo cavalleggeri San Pietro non si scivola ma, vedete, cavalleggeri San Pietro c'è scritto bene, eccolo, ho provato eh anche vedete la 725 funziona è matto, cavalleggeri San Pietro, ecco prossima fermata, crucifisso, porta a fabbrica ecco, via verde in partenza avanti ci legge un po' basso, prossima fermata, crocifisso, porta fabbrica ecco 46, piazza Venezia quella vettura è fantastica fantastica questa vettura prossima fermata, crocifisso, porta fabbrica si scrive bene non ha fatto due volte con pazienza non ci si è meritato sente bip scrive prossima fermata ecco l'autostrada adesso va carrozzeria è già finita portafabrica ma non si sta fermando dai macchina per spiegare la macchina tra un gomista salta a coda salta a fila ancora portafabrica crocifisso portafabrica almeno male ecco sta andando dall'alto sinistro la gomista va aperta fermata crocifisso portafabrica ormai è troppo tardi ma hai visto un po' spinta la porta da me crocifisso adesso è l'ultima e se ne san pietro però ecco il vivanto crocifisso portafabrica poi c'è prossima fermata piazza stazione san pietro fl vittura 724 piazza stazione san pietro alla fine non lo prendiamo più non lo prendiamo più eccola la termini sta partendo prossima fermata stazione san pietro piazza stazione san pietro fl beh devi mettere posizione fermata così appare fornacci oh no piazza stazione san pietro no si sa non ormai non possiamo prendere colpire ragazzi grazie grazie grazie